Poco nel corso degli anni ha realizzato una grande serie di smartphone che puntavano tantissimo sulla potenza che però avevano qualche compromesso hardware, magari soprattutto sotto il punto di vista del display. Con Poco X4 Pro 5G cambia la filosofia alla base di questi telefoni. Infatti qui troviamo minor potenza, pura minore prestazioni da gaming, ma un telefono più bilanciato, più completo, più equilibrato e con un ottimo schermo. L'ho utilizzato per un'intera settimana e vi racconto oggi com'è andata nella recensione completa. Va detto che questa recensione è fatta sei mesi dal lancio, durante i quali sono arrivati un sacco di aggiornamenti che hanno migliorato le performance e quindi è una recensione più completa, più matura, che ci permette di capire se a fine 2022 o ad inizio 2023 vale o meno la pena di acquistare un Poco X4 Pro 5G. Va anche detto che in questi giorni, in occasione del Black Friday, Poco ci sta offrendo una grandissima serie di sconti sul sito ufficiale. Appunto sul sito di Poco è possibile acquistare una grande serie di smartphone a prezzi molto, molto scontati e super interessanti che sono delle occasioni da non perdere. Per farvi un esempio, questo Poco X4 Pro 5G è solitamente venduto a 299€, infatti lo trovate a quel prezzo su Amazon e su tutti gli altri siti dei più famosi venditori online e delle catene di elettronica. In questa settimana del Black Friday però è possibile acquistarlo nel formato 6GB di RAM e 128GB di memoria interna a soli 249€. A 249€ diventa sicuramente uno dei best buy del momento ed è un'occasione da non perdere. Per questo e per tutte le altre offerte poi vi lascio qui sotto il link in descrizione al sito di Poco dove potete approfittare appunto degli sconti del Black Friday, ma torniamo a parlare del telefono. Anzitutto partiamo dalla confezione che è assolutamente completa, infatti troviamo oltre al telefono i soliti manuali inutili, una buona cover in silicone che ci aiuta a proteggere il telefono, un caricabatterie molto velozio e molto rapido da 67W con porto USB di cui parliamo fra poco, un cavo da USB a USB-C da utilizzare per la ricarica e un paio di cuffie con cavo, con jack di qualità sufficiente che vi permettono di fare qualche chiamata e di ascoltare un po' di musica senza pensieri. Parliamo subito dell'autonomia, il caricabatterie da 67W è davvero super potente, ci permette di avere una ricarica dallo 0 al 70% in soli 20 minuti e del 100% in circa 40. I tempi di ricarica sono quindi davvero impressionanti, manca la ricarica wireless però c'è da dire anche che la batteria da 5000 mAh ha un'autonomia davvero pazzesca. Di fatto con un utilizzo stress, molto stress, sono arrivato a coprire senza problemi un giorno e mezzo di utilizzo andando ad utilizzarlo in maniera un po' più blanda si croppano due giorni interi di utilizzo e quindi secondo me l'autonomia è davvero molto molto buona proprio per questo motivo forse anche la ricarica così veloce non serviva neanche perché non vi ritroverete a ricaricarlo così spesso. Andando oltre iniziamo a parlare del design Secondo me le linee squadrate e il design rinnovato di questo POCO X4 Pro 5G è sicuramente azzeccato sono un amante dei telefoni con le linee squadrate e soprattutto qui gli angoli non troppo decisi lo rendono un'ergonomia davvero buona è un telefono facile da impugnare, comodo, pesa poco, solamente 205 grammi nonostante le dimensioni importanti ed ha uno spessore di 8,12 mm che lo rende particolarmente agevole da utilizzare. Il peso leggero è consentito dei materiali plastici che nonostante sia plastica è di ottima qualità non è vetro, non è acciaio, non sono materiali premium ma è un telefono solido e ben costruito soprattutto mi è piaciuto il retro completamente piatto dove troviamo questo riflesso, questo effetto a linee di luce davvero molto piacevole, carino e diverso dal solito nella parte alta c'è poi questo enorme blocco fotografico che potrebbe sembrare molto grande, troppo grande forse ma che non mi è dispiaciuto perché quando lo appoggiamo su un tavolo lo rende un po' più stabile non stabilissimo perché comunque la fotocamera principale è esposta anche rispetto al blocco però ci aiuta ad avere minore vibrazioni quando lo appoggiamo e soprattutto non mi è dispiaciuto perché l'ho trovato un comodo punto di appoggio quando impugno lo smartphone. Di fatto mi viene naturale appoggiare l'indice in questa parte del telefono e devo dire che tutto sommato questa fetta ha il suo perché. Altro punto costruttivo che mi è piaciuto sono le cornici simmetriche sui tre lati con solamente un dente inferiore un po' più spesso rispetto agli altri che nel complesso donano al telefono un design sobrio pulito e abbastanza elegante. È un telefono solido, ben costruito, che mi è piaciuto e che può anche contare sulla certificazione IP53 che lo protegge da polveri e schizzi d'acqua. Non è un telefono che potete immergere e che potete bagnare però se vi cade sopra una goccia d'acqua non sarà sicuramente un problema. Un altro dei punti di forza di questo Pocus 4 Pro 5G è il nuovo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, quindi 1080x2400 pixel che è davvero un bel display. Un enorme passo avanti rispetto ai modelli precedenti è infatti un Super AMOLED come vi dicevo che oltre ad avere una ottima luminosità media di 700 nits ed una luminosità di picco di 1200 nits sotto la luce diretta del sole che lo rende perfettamente leggibile in ogni condizione di luce ambientale ha anche il refresh rate a 120 Hz disattivato di default, quindi se lo acquistate ricordatevi di attivarlo che rendono il telefono, il software, l'animazione, i video, i giochi davvero molto molto fluidi ed è uno schermo fra i più piacevoli della sua categoria sicuramente è uno dei punti per cui vale la pena di acquistare questo smartphone oltretutto i colori sono da ben tarati l'ho utilizzato anche in giornate particolarmente soleggiate come vi dicevo, nessun problema di leggibilità in nessuna occasione non manca poi l'Allways on display alla Xiaomi quindi si disattiva dopo un po' però comunque c'è ed è ben funzionante e completa il comparto audio uno speaker stereo di buona qualità va benissimo per ascoltare un po' di musica per vedere un video, un film o una serie tv e poi c'è anche da segnalare la presenza del jack audio nella parte superiore che ci permette appunto di collegare delle cuffie via cavo sempre per il comparto multimediale hardware c'è da segnalare la presenza del sensore infrarossi che ci permette di sostituire i telecomandi l'hardware è poi uno dei capitoli dove poco ha fatto i maggiori cambiamenti non abbiamo più prestazioni mostruose abbiamo uno snapdragon 695 affiancato da 6 o 8 gigabyte di ram e 128 o 256 gigabyte di memoria interna le prestazioni non sono onestamente pazzesche c'è qualche lag, c'è qualche rallentamento i tempi di apertura delle applicazioni non sono istantanei però nel complesso l'esperienza di utilizzo è buona non ci sono problemi si può utilizzare per qualsiasi cosa anche per il gaming, anche quello più pesante anche se non avrete delle animazioni e una fluidità pazzesche ma secondo me per un 300 euro questo è un hardware bilanciato infatti poi ci mette a disposizione un buon wifi il chip NFC, un bluetooth 5.1 poi c'è un sistema di sblocco tramite sensore posizionato sul tasto laterale davvero perfetto è impeccabile, funziona benissimo è velocissimo e poi c'è anche la possibilità di sbloccarlo con il volto e poi c'è infine sempre sotto il punto di vista hardware anche un buon feedback della vibrazione che non risulta mai zanzarosa è un buon feedback è solido, bello e mi è piaciuto quindi secondo me sotto il punto di vista hardware abbiamo rinunciato a un po' di prestazioni ma abbiamo fatto un grosso passo in avanti in termini di completezza e di utilizzabilità quotidiana e a proposito di utilizzo quotidiano parliamo un attimo di software ho visto molte critiche sul fatto che sia uscito con Android 11 nel 2022 è una versione onestamente abbastanza vecchiotta ma non è un grosso problema principalmente per il fatto che la MIUI 13 piada tutto emette una serie di personalizzazioni molto differenti da Android Stock ci mette a disposizione un sacco di funzioni software che ci permettono di utilizzare lo smartphone in maniera avanzata e di personalizzarlo anche in maniera abbastanza pesante il software comunque in linea generale è abbastanza veloce e scattante l'unica cosa che non mi è piaciuta è la massiccia presenza di Blotware ovvero di quelle applicazioni che sono già preinstallate del dispositivo ne ho contate più di 10 sono facili da disinstallare ma non sono mai piacevoli da trovare ad esempio trovare preinstallate applicazioni come Agoda, AliExpress, Dust Settle, Block Puzzle Jewel Blast, Lords Mobile e quant'altro non è sicuramente piacevole ma si possono facilmente rimuovere comunque i software di telefono nell'utilizzo quotidiano si comportano bene e non ho mai avuto problemi o rallentamenti così gravi da farmi dubitare delle prestazioni di questo telefono naturalmente se andate a spingere tanto in termini di frame rate sui giochi pesanti o a livello di dettagli e se andate ad utilizzare più applicazioni pesanti contemporaneamente le prestazioni calano ma è naturale attendersi questi problemi in uno smartphone da 300 euro prima di concludere parliamo di fotocamera sull'enorme blocco posteriore troviamo tre ottiche c'è una inutile, brutta e obsoleta macro da 2 megapixel che non utilizzerete mai una dignitosa ultra wide da 8 megapixel che vi permetterà di fare qualche foto di gruppo o qualche grand'angolo senza troppe pretese con una buona luce ma comunque utilizzabile poi c'è una buona malta allenante fotocamera da 108 megapixel allora i 108 megapixel servono forse un po' ad attrarre gli utenti che non conoscono il mercato degli smartphone però devo dire che la fotocamera tutto sommato riesce a scattare delle foto di buona qualità se avete mano ferma e scattate di giorno riuscirete ad ottenere delle foto ben bilanciate con un buon livello di dettagli perfetti per immortalare un ricordo un momento e per la condivisione sui social potete utilizzare sia l'interpolazione tramite pixel binning e quindi scattare a 12 megapixel che è l'opzione che vi consiglio oppure scattare a 108 in ogni caso avrete delle foto più che soddisfacenti la qualità cala naturalmente al calare della luce in quel caso entra in gioco la modalità notte e poi la differenza la fa tutta la vostra mano ferma se avete mano ferma o un cavalletto e utilizzate anche la modalità notturna riuscirete ad ottenere delle foto di buona qualità anche in condizione di luce difficile il punto in cui invece non mi ha convinto è il capitolo dei video video che sono girati solamente in full hd a 30 fps non c'è il 60 fps che secondo me dovrebbe essere assolutamente presente in uno smartphone di questa fascia di prezzo non c'è neanche il 4k e c'è poi il problema del fatto che non sono particolarmente ben stabilizzati e quindi risultano sempre un po' tremolanti arrivando quindi alle conclusioni a chi posso consigliare questo Pocus 4 Pro 5G secondo me c'è una grandissima fetta di utenti che potrebbe ribanere soddisfatta di questo telefono perché è davvero molto equilibrato ci mette a disposizione un ottimo display una batteria dell'eccellente autonomia ci mette a disposizione un hardware comunque tutto sommato, completo capace di ruffire delle performance più che accettabili il 5G che ci permetterà di utilizzarlo per alcuni anni non ha particolari rinunce quindi secondo me è un telefono che va capito da chi aveva i poco precedenti ma per tutti gli altri che non si aspettano prestazioni da gaming ma che vogliono un telefono solido nell'utilizzo quotidiano sicuramente è un prodotto da prendere in considerazione come vi dicevo all'inizio del video è in vendita a 299€ nella versione 628 e a 349€ nella versione 8256 come vi dicevo prima è possibile acquistarlo durante la settimana del Black Friday su A249€ che è davvero un prezzaccio ed un'occasione da non perdere spero che il video vi sia piaciuto se è così vi chiedo la cortesia di mettere un bel mi piace e di iscrivervi qui sotto al nostro canale e poi vi lascio qui sotto in descrizione la recensione testuale completa con tutte le foto, i video, i dettagli tecnici che non sono riuscito a raccontarvi oggi soprattutto vi lascio il link in descrizione per l'acquisto sul sito di Poco per l'acquisto sul sito di Amazon e poi anche il nostro canale Telegram offerte Tech Out of Beat dove troverete tutte le migliori offerte relative al Black Friday e poi anche durante il corso del resto dell'anno da Vittorio Tisio per Out of Beat è tutto grazie e alla prossima